Sì, per vedere. Non vedo l'ora che c'è. Siamo subito sulle due scale in ingresso. Ci sono i posti sediati dove potete sedere, ok? Iniziate. Prima, B, C dalla scala di là, D e F dalla scala di qua. Solo gli informatici. Conosine senza calcarvi. Parte un coinquegno che comunque non si voglia vedere, determinerà un cambiamento in voi. Voi uscirete da questa scuola fa cinque anni che sarete alto da ciò che siete oggi. È strano, è molto strano pensare di tornare a scuola. La voglia però c'è, ho tanta voglia di imparare. Tutto diverso, terza media era tutto diverso, ambiente nuovo. Professori nuovi, compagni nuovi, quindi iniziamo. Il fatto di avere la mascherina e dover stare lontana dai tuoi compagni ti fa un po' effetto l'idea? Un pochino, però funziona così e bisogna rispettare le regole. Ho voglia di tornare a scuola, però ho anche un po' di timore di come sarà, perché comunque sette mesi che non andiamo a scuola ho un po' di paura. Ansia, ma non sono i sette mesi più che altro, però è l'inizio di una nuova cosa, quindi un po' ansia. Ma è un po' strano anche perché non conosco nessuno, quindi c'è a parte due, quindi è un po' strano secondo me. Qual è la tua speranza? Boh, di non so, trovare amici e trovarmi bene. Il fatto di avere la mascherina, oramai vi siete abituati? Sì, sì, abbastanza, ma preferivo senza. Vi ho già detto cosa bisogna fare, oggi non sto a dirvi, mi raccomando, ve l'ho già detto. Oggi, no, oggi rientriamo nel nostro specifico. Il nostro specifico è dare forma, formare, vuol dire dare forma a chi? Alle vostre menti. Noi dobbiamo andare a formare, è un'impresa straordinaria. La forma delle vostre menti farà il mondo che vivrete, farà ciò che voi sarete, ma farà anche ciò che noi saremo. Ragazzi, vivete bene questa occasione, godetevi questa partenza. Ragazzi, vivete bene questa partenza.